Piana degli Albanesi, in Arbresh Ora e Arbresh Evette, Chiana in siciliano, è un comune della città metropolitana di Palermo, in Sicilia, i cui abitanti sono detti Pianesi o Arbresh. È situata al margine di un altopiano montuoso, sul versante orientale del monte Pizzuta, prospicente il lago Monimo. È il centro più importante e noto degli albanesi di Sicilia, nonché il più grande stanziamento Arbresh, dove da secoli risiede storicamente la più popolosa comunità albanese d'Italia. Denominata fino al 1941 Piana dei Greci, per il suo rito greco-bizzantino, professato dai suoi abitanti, è sede vescovile dell'eparchia di Piana degli Albanesi, circoscrizione della chiesa italo-albanese, la cui giurisdizione si estende su tutte le chiese insulari di rito orientale. La composizione etnica di Piana degli Albanesi, come detto, si distacca significativamente da quella dell'ambiente circostante. La percentuale etnica albanese è pressoché il totale dei residenti. La popolazione costituisce un sistema socio-culturale Arbresh, che configura un sistema storicamente consolidato e dotato di un profilo autonomo nel territorio. L'origine unica e peculiare, con i forti connotati storici, culturali e valoriali, costituiscono punti specifici della comunità. D'altra parte il fattore territoriale rende esemplare il valore dell'interculturalità, ormai perfettamente integrata. Un passo avanti in tal senso è rappresentato dalla definizione delle minoranze etnolinguistiche attraverso la legge statale 482 emanata il 15 dicembre 1999. L'identità Arbresh, temperata in terra straniera, ne suggella il forte carattere autoctono. Gli assi portanti della comunità sono la lingua Arbresh, il rito bizantino, i costumi e gli usi tradizionali e la storia. La componente sociale è stata la forza endogena di Piana degli Albanesi. L'intelligenza Arbresh, papas in primo luogo, ed esponenti della vita politica e culturale attraverso istituzioni e l'operato di numerosi uomini illustri, hanno operato con zelo per difendere le peculiarità identitarie. Il mantenimento dello status Arbresh, come in ogni realtà identitaria, si confronta quotidianamente con il trasformismo socio-culturale. E se una volta ignorarsi a vicenda fra albanesi e siciliani era il modo di conservare ognuno le proprie specificità, le attuali dinamiche territoriali non lo consentono nella misura in cui il sistema mondo si esprime mediante relazioni dal locale al sovralocale. Gli specifici culturali, quali rito, lingua e costumi, vengono tuttora mantenuti vivi da tutta la comunità, grazie a una forte e radicata tradizione popolare in cui l'etnia albanese di questo popolo è legata e si riconosce da istituzioni religiose e culturali che contribuiscono validamente alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio avito. Nel corso dei secoli Piana degli Albanesi è stata annoverata fra i maggiori centri attivi e influenti degli italo-albanesi, tutelando e coltivando la memoria storica dell'antica madrepatria. Oltre ad essere il fulcro socioculturale, religioso e politico delle comunità arbreche dell'isola, ha mantenuto pressoché intatte le proprie peculiarità etniche, quali la lingua albanese, il rito greco-cattolico e i caratteristici costumi originari. Nell'età moderna ha ricoperto un ruolo significativo per i moti rivoluzionari e risorgimentali relativi all'unità nazionale d'Italia, ai movimenti regionali dei fasci siciliani, dei lavoratori e anche alla questione della rilingia nazionale albanese, della lotta di liberazione dal dominio turco-ottomano. Tra il 1944 e il 1945, per una durata di 50 giorni, Piana degli Albanesi divenne addirittura una repubblica popolare indipendente. Infine è tristemente nota la strage di Portella della Ginestra, avvenuta il primo maggio del 1947. Contribuì notevolmente al progresso della cultura e della lettura albanese, Piana degli Albanesi, con una nutrita schiera di intellettuali, avviando un decisivo processo per la storia letteraria dell'Albania. Infatti è considerata il luogo d'origine della letteratura al Bresch, dalla quale nel 1592 nacque la prima opera albanese della diaspora e iniziatrice, fra il 1500 e il 1600, della prima scuola europea nella quale si insegnava in lingua albanese. Nel 1903, inoltre, vi fu tenuto il terzo dei congressi linguistici d'ortografia albanese, dove vennero dibattuti problemi linguistici, letterari e politici e si creò una società nazionale albanese. La sua antica tradizione musicale canora bizantina fa parte del registro eredità immateriali della Sicilia, istituito dalla regione siciliana e riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Inoltre, l'amministrazione comunale utilizza nei documenti ufficiali anche l'albanese, ai sensi della vigente legislazione che tutela le minoranze etnolinguistiche. Le attività economiche prevalenti sono il terziario, l'industria del marmo, l'agricoltura, la pastorizia, l'artigianato, l'artigianato artistico e una delle principali risorse locali è costituita naturalmente dal turismo. Grazie ai vasti territori dedicati all'agricoltura e alle sue caratteristiche climatiche, la sua economia è basata principalmente sulla produzione di prodotti caseari, cereali, olio di oliva, vino e frutta e dall'allevamento di ovini, bovini e caprini. Fra i prodotti agricoli maggiormente coltivati ci sono olive, uva, minore è la produzione oggi di cereali, mandorle e fichi d'India. Un tempo era più cospicuo l'allevamento dei bovini e degli ovini, ma rimane importante la produzione di carni e di formaggi tipici. Nei territori vengono inoltre prodotti vino, liquori e grappe. La tradizione locale possiede anche diverse attività artigianali, tra le quali il ricamo, l'iconografia, il mosaico e l'oreficeria. In particolare, per quanto riguarda l'oreficeria, gli orafi sono soprattutto legati alla realizzazione a mano dei preziosi gioielli e accessori del costume tradizionale, dai pregiati brezzi ai girocollo di velluto con pendenti, dagli orecchini alle collane a doppio filo granato. I maestri del mosaico e gli artigiani del marmo, rosso cumeta, sono anche importanti. I prodotti e le creazioni di orificeria locale, che giungono da una lunga tradizione, sono soprattutto legati alla produzione di preziosi accessori del costume tradizionale femminile arbreche di Piana degli Albanesi, come ho già detto, la cui origine è di diverse epoche del passato, spaziando dal periodo bizantino sino al Settecento. Particolari poi sono le icone bizantine, realizzate dagli iconografi secondo gli antichi canoni artistici. Al gruppo delle rare icone del Settecento e del Settecento si affiancano le nuove, ispirate comunque fedelmente all'arte e alla spiritualità bizantina, che a distanza di secoli mantengono viva una tradizione ancora ben radicata e fiorente nella comunità di Piana degli Albanesi. Questi iconografi, con esperta manualità e fedele studio dei materiali, dei procedimenti e dei caratteri stilistici, operano nella stretta osservanza di canoni fissati da secoli per ogni particolare della composizione, dagli atteggiamenti dei personaggi ai riposti significati simbolici, alla scelta dei colori, alle scritte sacre sia nella coine greca che in albanese. La produzione ininterrotta da oltre cinque secoli e la qualità dei costumi femminili tradizionali di Piana degli Albanesi si devono alla grande abilità artigianale delle ricamatrici arbreche nel trasformare la seta, il velluto e l'oro in raffinati e preziosi abiti usando il tombolo o il telaio o semplicemente l'ago. Ma queste abilità non si esauriscono nel confezionamento dei costumi, infatti accanto ai ricami in oro e in seta esistono i materiali certamente meno preziosi, altri lavori di ricamo di pari bellezza, eseguiti soprattutto per la preparazione dei corredi nuziali, merletti, a spola, a tombolo e all'uncinetto, ricami ad ago su carta telata, punto ad ago e punto Venezia, sfilati 400, 500, 800 siciliano, ricami cosiddetti appunto inglese, appunto croce, appunto pittoresco, appunto ombra eccetera. Alla tradizione del ricamo inoltre sono legate le bambole in abito urbanese, anch'esse ricamate in oro e con materiali cosiddetti poveri, pietra, legno, ferro e vetro e altri manufatti di interesse artistico. Importante nel mantenimento dell'antica tradizione del ricamo a Brescia fu il collegio di Maria fin dai tempi della fondazione nel 1731 dove venivano educate le ragazze. L'ubicazione montuosa e collinare della cittadina ai piedi della catena dei monti di Piana e di Albanesi è stato anche uno dei fattori che ha preservato da secoli i suoi abitanti dall'assimilazione culturale. La presenza di abbondanti sorgenti e corsi d'acqua rese possibile l'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia. La presenza di tutte le strutture e i servizi essenziali, dall'ospedale al carcere, ha reso la cittadina indipendente e autosufficiente sino al 1900. I quartieri storici di Piana degli Albanesi prendevano nome dalle chiese principali di rito orientale e da toponimi albanesi. La toponomastica del territorio comunale svela quindi il carattere eminente dell'altopiano con quasi tutte le denominazioni in albanese. Gli albanesi di Piana degli Albanesi che scelsero e ottennero i feudi di Merco e Dingoli erano dei profughi estranei al contesto in cui avrebbero dovuto insediarsi. Estranei erano i costumi, la lingua, la religione, i nomi dei luoghi che li circondavano. Quindi insediarsi in queste terre spopolate significò per loro ricostruire un mondo di segni e riferimenti fisici legati alla loro cultura. Per abitare il territorio loro assegnato era necessario conoscerlo e quindi dargli un nome. Essi diedero ai monti e alle valli i nomi dei monti e delle valli albanesi a loro comuni. Oni sono infatti le rupi dei monti Acroce Rauni in Albania e Oni è il nome delle voragini analoghe site tra il monte Meganoce e il monte Cumeta. Questo bisogno di appropriarsi dei luoghi e di costruire un'identità attraverso l'individuazione di segni fisici di riferimento territoriale li portò a inventare e a tramandare leggende, storie fra il fantastico, il religioso e il profano legate a luoghi particolari come le grotte o a semplici pietre che potessero rendere familiare, riconoscibile e nominabile il nuovo contesto fisico da abitare. Per esempio nella contrada della Pizzuta in prossimità dell'Odigitela rurale vi è una pietra con un'impronta lasciata dal quadro della Vergine Odigitela portato dai profughi dell'Albania. Si narra che il solco lasciato dal quadro sulla pietra venne ritenuto da tutti di buon auspicio e quel luogo venne così eletto a nuova dimora. Ancora al tempo in cui scriveva Giuseppe Schirò, ossia nel 1923, i passanti la baciavano devotamente e recitavano delle preghiere. Ai bambini poi veniva riservato il privilegio di porre l'occhio e l'orecchio su una piccola cavità nella pietra e di vedere così i luoghi da cui erano partiti i loro antenati e di udire addirittura la voce dei fratelli d'Albania. All'entrata storica dell'abitato della parte bassa della contrada Brincia, in prossimità della Criga e Palermes, si ergevano le lastre del Drago, massi tipici del paesaggio di Piana degli Albanesi. Questo ed altri segni della memoria formano un grosso capitolo della storia urbana e territoriale di Piana degli Albanesi e vanno a configurare una sorta di architettura simbolica a scala territoriale che dà forma all'eccezionalità di una condizione sociale, culturale ed etnica che ha segnato con continuità il processo di formazione urbana e territoriale del comune siculo albanese. Il centro antico del paese interpreta lo stile costruttivo tardo medievale, cinquecentesco e secentesco, rispecchiando gli status sociali e le condizioni economiche dell'epoca in cui sorse l'insediamento. Sulla base dei documenti ad oggi disponibili è possibile supporre che gli Arbresh, fondatori di Piana degli Albanesi, dopo quasi un secolo di permanenza nel luogo, abitassero in case costruite secondo schemi architettonici più medievali che cinquecenteschi. Ne è testimonianza l'uso di archi in pietra e di volte a botte. Allontanatisi in un certo senso dall'arte bizantina, gli Arbresh decisero di conferire al paese caratteristiche urbanistico-architettoniche che guardavano probabilmente alla città di Monreale, nel cui territorio e giurisdizione ricadevano le terre loro assegnate. Le strade urbane sono strette e costituite da scalinate e dal vicinato, il famoso Gitoni, lo spazio fisico luogo di aggregazione antistante le abitazioni, ad eccezione della strada principale, l'asse longitudinale ampio e rettilineo di corso Giorgio Castriota, che si estende da nord a sud-est e sul quale si arriva entrando nel paese. Il tessuto dell'area centrale è poi costituito da grossi lotti irregolari e da una trama viaria curvilinea, tardo-medievale, spesso accidentata, con rampe gradinate. Il centro di aggregazione per eccellenza, luogo reale e simbolico di incontro, comunicazione e informazione, con funzione regolatrice, è la piazza grande, ossia piazza Vittorio Emanuele, con la vecchia sede del municipio e le quinte secentesche, costituite dalla fontana Tre Cano e Givet e dalla chiesa santuario di Maria Santissima o di Gitria. Il patrimonio artistico e monumentale di Piana degli Albanesi è fondamentalmente percorso da due stili, o meglio da due culture, quella barocca, la cui esistenza si è protratta sino agli inizi del Novecento, e quella bizantina, esistita sempre a livello latente e con periodi di piena espressione. I due stili hanno avuto momenti di fusione, con esiti singolari. L'arte bizantina, cui erano legati gli esuri albanesi, non viene abbandonata, anzi la sua influenza si fonde nell'orbita delle caratteristiche architettonico-urbanistiche. Tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, principalmente, fu realizzato quanto vi è oggi di maggiore interesse artistico-architettonico, ossia le chiese, le fontane, i palazzi e l'assetto del centro storico nel suo complesso. In questo periodo fu il barocco meno capriccioso e privato delle esasperazioni decorative lo stile che si affermò. E una personalità su tutte incise profondamente quegli anni, quella di Pietro Novelli, architetto e pittore monrealese, molto attivo nella colonia sicuro-albanese. Nei secoli successivi, tra il Settecento e l'Ottocento, non si registrarono che aggiunte e completamente compatibili con la conformazione ormai assestata con le sempre più esigue risorse finanziarie disponibili. Nel secondo dopoguerra sono state operate trasformazioni urbanistiche e architettoniche, non sempre rispondenti a canoni culturalmente e scientificamente corretti, che hanno prodotto in alcuni casi anche danni irreversibili. Tuttavia, parallelamente, si è registrata un'attenzione particolare per l'arte bizantina. Anche negli anni fra il 1970 e il 1990 si è consolidata una maturazione culturale, una maggiore consapevolezza del valore della memoria e del documento, largamente inteso, che ha favorito in svariati ambiti lo sviluppo artistico. La storia di Piana degli Albanesi risale quindi alla fondazione della fine del 1400, quando, in seguito all'invasione della penisola balcanica da parte dei turchi ottomani, numerosi gruppi di profughi albanesi cercarono rifugio nelle vicine coste dell'Italia meridionale, dove si stabilirono fondando un cospicuo numero di nuovi insediamenti rurali. Fu così che un consistente gruppo di esuli albanesi, provenienti dalle regioni centro-meridionali dell'Albania e, in secondo momento, dalla Morea, cercarono rifugio a causa dell'imminente avanzata musulmana, che minacciava di sovrapporsi alla cultura occidentale europea, se non addirittura talvolta anche di distruggerla. L'esodo e il sorgere di questa comunità ebbe inizio soltanto dopo la morte del loro condottiero, Giorgio Castreota a Skandenberg, l'eroico difensore dell'indipendenza albanese contro l'invasione ottomana nel 1400. La diaspora non avvenne nello stesso periodo né massicciamente, bensì gradualmente, con singoli gruppi che migrarono in Italia man mano che lo permettevano il pericolo della guerra e la possibilità di fuga. Non si trattò dunque di una fuga precipitosa, ma di un'emigrazione obbligata dalle difficili condizioni della guerra tra il 1463 e il 1479, una guerra che molti di quei profughi continuarono a combattere prima di rassegnarsi all'espatrio definitivo. L'assetto riservato allo stanziamento degli albanesi in Italia fu improntato alla considerazione che essi avevano saputo guadagnarsi e conservare presso i cristiani d'Occidente. Tra le regioni maggiormente interessate dalla diaspora albanese figurano la Calabria, la Sicilia, la Campania, il Murise, la Puglia e la Puglia. Praticamente tutto il sud Italia. Gli albresci di Piana degli albanesi diedero vita alla loro diaspora verso la Sicilia intorno al 1485, che dopo aver difeso la propria terra trovarono rifugio nell'isola abbandonando la madre patria. Grazie all'appoggio della Repubblica di Venezia, che favoriva le immigrazioni per ripopolare centri disabitati o colpiti da carestie, esuli della Imara, tra cui consanguinei di Castriota e nobili della più elevata aristocrazia albanese, come risulta dai diplomi reali di quell'epoca, riuscirono a inoltrarsi sino a raggiungere la lontana Sicilia. Sbarcati così sul litorale, secondo la tradizione, nei pressi di Solunto e costretti a dirigersi verso l'interno per timore di eventuali rappresaglie da parte dei turchi, i profughi cercarono in diverse parti della Sicilia il luogo dove insediarsi e dopo alcuni tentativi, durati diversi anni peraltro, si fermarono negli ampi territori amministrati dalla mensa arcivescovile di Monreale. Guidati quindi dalle famiglie nobili albanesi, pertanto, preferivano essere accolti nei feudi della chiesa, in particolare dell'arcivescovato di Monreale. Gli albanesi, di Piana degli albanesi, pur essendo soltanto degli enfiteuti, ossia degli affittuari, ebbero però il privilegio di scegliere nell'ambito dei feudi e dell'arcivescovato il territorio da abitare e il sito su cui edificare la nuova città. Scelte che nel meccanismo di ripopolamento in Sicilia, sviluppatosi nel corso del 1500 e del 1600, furono prerogativa del feudatario. Negli anni 1486-1487 fu chiesto al cardinale Juan Borgia il diritto di soggiorno sulle terre di Mercu e Aidingli, situate nell'entroterra montuoso presso la pianura della Fuscia. Il luogo prescelto si presentava non lontano dai principali poli cittadini, ma alquanto riparato, un ambiente fertile e ricco d'acqua. Stipulati i capitoli di fondazione, la concessione ufficiale fu sancita il 30 agosto 1488, a cui seguì la costruzione del più grosso centro albanese dell'isola. Sorse da principio le falde dell'erto Monte Pizzuta, accampati inizialmente in tende e pagliai, la popolazione nel luogo in cui nel 1488 verrà costruita la chiesa rurale della Santissima Maria Odigitra, ma i suoi fondatori, costretti dall'eccessiva rigidità del clima, si spostarono appena più a valle in prossimità della pianura sottostante. Edificato sulle falde di una collinetta, dominava un'estesa area pianeggiante dalla quale, con molta probabilità, derivò il nome Piana Archiepiscopatus Montis Regalis, in seguito Piana dell'Arcivescovo. Esuli dai luoghi d'origine, gli abitanti, come già ho avuto modo di dire, trasportarono, oltre alla loro lingua natia, la religiosità cristiana orientale e i costumi, trasportando nella nuova città gli usi e le tradizioni, la toponomastica e la stessa intitolazione delle chiese dei santi loro devoti. L'assetto urbano per una popolazione già strutturata corrispondeva così all'organizzazione sociale della cultura albanese e al contempo funzionale ai rapporti sociali di produzione trovati nell'isola. Il modo in cui gli albanesi si insediarono risulta comprensibile se rapportato alla loro cultura di origine, cioè quella dei villaggi di montagna dell'Albania e ai conseguenti modelli insediativi. Nei villaggi albanesi alla base dell'organizzazione sociale e politica della comunità era posta la famiglia. Il territorio era formato da uno o più villaggi, le chiese in essa presenti erano riunite in un'unica parrocchia e le decisioni venivano prese in assemblea e tutti avevano diritto al voto. Nel modo di insediarsi si individua questa specificità legata alla cultura albanese, l'aggregarsi di famiglie appartenenti alla stessa stirpe per gruppi all'interno di quartieri che prendevano nome dalle chiese, dalla piazza pubblica e dalle medesime famiglie. Il centro abitato si è quindi sviluppato su più quartieri, seguendo la morfologia montuosa del territorio. L'omogeneità sociale, culturale ed etnica degli albanesi si manifestò immediatamente con la rapida costruzione delle chiese, diritto greco-bizzantino, e delle prime infrastrutture. Le condizioni sfortunate, ma dignitose, dell'esodo iniziale segnarono con caratteristiche definitive gli albanesi impiantati in Sicilia. Ne sono testimonianza le capitolazioni che gli albanesi contrassero con gli ospitanti, dopo qualche anno dal loro insediamento, essendo svanita ogni speranza di ritorno in patria. Quegli strumenti legali e giuridici si rivelarono, anche per le altre colonie albanesi dell'entroterra di Palermo, assai vantaggiosi. Oltre a permettere una sistemazione definitiva e a garantire agli esuli una vita tranquilla e laboriosa, li privilegiò addirittura rispetto agli autotoni dell'isola, ed essi salvaguardarono le loro tradizioni e la loro autonomia. A partire dal 1532, durante la seconda diaspora albanese, altri gruppi di famiglie, provenienti dalla tessaglia e dalle città di Corone, Modone e Nauplia in Morea, attuale peloponneso, si aggiunse ai primi esuli. A tal punto si strutturò come comunità autonoma nell'assetto amministrativo, giuridico, economico, culturale e religioso. Una comune volontà venne espressa dal comune e dalle famiglie più rappresentative di dotare la città di chiese e sedi legate alle istituzioni della società civile e di mantenerle e migliorarle nel tempo. I fondatori, quindi desiderando mantenersi sempre albanesi e non volendo confondersi con l'elemento eterogeneo che li circondava da ogni parte, ostacolarono l'accesso ai non albanesi. Quindi per molto tempo non fu permesso ai latini di risiedere nel paese oltre un determinato periodo di giorni. Per atto espresso nel contratto che fu sottoscritto il 30 agosto 1488 tra gli albanesi e l'arcivescovo di Monreale, le pubbliche cariche dovevano essere occupate dai soli cittadini albanesi di rito greco. Tale privilegio, riconosciuto unicamente agli albresci di Piana degli Albanesi, rimase in vigore fino al 1819 e consentì agli esuli di difendere così le proprie tradizioni etnolinguistiche e soprattutto religiose. Verso la prima metà del 1700 gli albresci di Piana degli albanesi avviarono un profondo processo di rinnovamento spirituale e culturale, grazie in modo particolare all'opera di padre Giorgio Guzzetta che fondando l'oratorio San Filippo Neri per i sacerdoti celibi di rito bizantino, il collegio di Maria congiuntamente ai papas Antonio Brancato per ragione intu femminile al Bresci e il seminario italo-albanese a Palermo fornì un indispensabile sostegno alla salvaguardia dello specifico etnico, religioso e culturale delle comunità sicuro-albanesi. I secoli 1800 e 1900 costituirono un notevole progresso per la cultura e la letteratura italo-albanese, sospinta soprattutto dai principi romantici e risorgimentali. Una nutrita schiera di intellettuali si interessò della storia, della lingua, delle tradizioni poetiche popolari al Bresci, avviando un decisivo processo della storia letteraria albanese. In questo contesto Piana degli Albanesi offrì figure di grande rilievo e personalità. Lungo il 1800, inserendosi negli umori rivoluzionari e risorgimentari che preparavano l'unità nazionale d'Italia, Piana degli Albanesi e i suoi abitanti giocarono un ruolo significativo. La loro partecipazione alle fasi più incisive dei moti risorgimentali siciliani e nazionali si concretizzò in un decisivo sostegno politico e militare. Nel 1860 gli al Bresci ospitarono nella loro cittadina gli emissari mazziniani, Rosolino Pilo e Giovanni Corrau, giunti in Sicilia con il compito di preparare lo sbarco garibaldino. Poi, in seguito allo sbarco, Piana degli Albanesi ospitò i garibaldini, fornendo loro sostegni logistici, vettovagliamenti e un sicuro riparo strategico. Quindi molti albanesi seguirono le campagne militari contro i Borboni e alcuni rimasero anche vittime sul campo di battaglia. Fu così tra i centri che presero parte alla rivolta della Gancia e agli avvenimenti dell'espedizione dei Mille denominati Insurrezione di Palermo. Un altro momento significativo della storia di Piana degli Albanesi coincise con il movimento dei fasci siciliani dei lavoratori, che verso la fine del 1800 interessò la Sicilia e più in generale le vicende della politica nazionale. Il fascio dei lavoratori di Piana degli Albanesi ebbe come guida indiscussa il medico locale Nicola Barbato, tra i più prestigiosi e colti capi dell'intero movimento in Sicilia. Il potente fascio di Piana degli Albanesi fu tra i più pericolosi e tra i meglio organizzati non solo della provincia di Palermo, ma di tutta l'isola, contando 2500 soci su 9000 abitanti, con la sezione del movimento di oltre 1000 donne, quindi praticamente il 50%. Benché soppresso dal governo italiano, allora guidato da Francesco Crispi, anche egli albanese, il movimento dei fascianti continuò la sua azione perpetuando gli insegnamenti di Nicola Barbato. Con sentimento popolare, gli albresci parteciparono in maniera decisiva fin dal 1878 anche al risorgimento nazionale albanese e alla questione albanese nella lotta di liberazione dal dominio turco-ottomano, tramite giornali e riviste, comitati e società, e una produzione letteraria di notevole pregio. Si creò un movimento politico-culturale tra gli albanesi della diaspora di Piana degli Albanesi, da parte delle personalità più attente, religiose e laiche, intellettuali, e addirittura un folto gruppo di civili coraggiosi, decisi a partire, armati alla volta dell'Albania, fermati però dalle autorità civili italiane che non desideravano caduti per una causa non loro. Nel 1903 fu tenuto a Piana degli Albanesi, dopo quello di Corigliano Calabro e Lungro, il Terzo Congresso Linguistico d'Ottografia Albanese, dove vennero dibattuti problemi linguistici letterari e politici relativi alla situazione albanese e si creò una società nazionale albanese, movimenti che contribuirono a porre le basi per il conclusivo congresso linguistico scientifico panalbanese di Monastir del 1908, nel quale fu riformato l'alfabeto moderno albanese. Con la proclamazione dell'indipendenza dell'Albania nel 1912, fece visita alla cittadina il primo ministro del governo provvisorio albanese, Ismail Kemali Vlora, rendendo omaggio ai cittadini che tanto avevano supportato, la causa dei fratelli albanesi d'oltre Adriatico. Seppure si esaurì un importante capitolo della storia culturale della minoranza italo-albanese e venne accadere un motivo su cui si erano accentrati l'attenzione ideale e l'impegno culturale dell'intelligenza arbrescia. A partire dal protettorato, la campagna di Albania dal 1915-1918 e l'occupazione italiana d'Albania tra il 1939 e il 1943, parallelamente alla presenza dei monaci basiliani di Grotta Ferrata e delle suore basiliane italo-albanesi, anche alcuni airbrush di Piana degli Albanesi operarono nella madrepatria, adempiendo a traduzioni, alla scuola e alle relazioni fra Italia e Albania. Rosolino Petrotta, medico chirurgo, funzionario INAIL, parlamentare e assessore alla sanità della regione Sicilia, fondatore del centro studi albanesi, divenne addirittura consigliere del Parlamento di Tirana insieme ad altri due arbresci d'Italia, previa nomina del re Zogu per i grandi apporti dati alla questione albanese sin dal 1912. Nel 1924, durante una visita ai Mussolini in Sicilia, le alte cariche dello Stato, nel loro soggiorno nella cittadina, rimassero colpite dalla ricchezza e dalla foggia degli abiti di festa delle donne locali. Tant'è che nel 1928 una delegazione ufficiale di Piana degli Albanesi fu ricevuta al Viminale e in seguito ai fatti venutisi a creare dalla visita del Duce, il prefetto Cesare Mori si recò nella cittadina. Negli anni 1920 fu evidente lo scontro di classe tra i contadini di Piana degli Albanesi da una parte, fervidi antimafiosi dai valori albanesi e i mafiosi agrari dall'altra. In questo contesto il movimento contadino agiva sullo sfondo di un territorio che circondava il comune governato dai gabbellotti e campieri mafiosi. Inquadrato nell'ambito della battaglia contadina per la lotta al latifondo alcuni dirigenti al Bresch delle lotte contadine vennero uccisi dalla mafia, tuttavia essa non riuscì a radicarsi nel territorio. Dopo secoli di difesa del proprio rito, della provincia della propria lingua e tradizioni, con la bolla apostolica Sedes del 26 ottobre 1937, Papa Pio XI istituì l'eparchia di Piana degli Albanesi per i fedeli italo-albanesi, diritto bizantino-greco della Sicilia, riconosciuta anche civilmente dallo Stato italiano il 2 maggio 1939. Dal 30 agosto 1941, per reggio decreto, il nome Piana dei Greci, già in discussione da decenni, venne modificato in Piana degli Albanesi dagli intellettuali e religiosi della Chiesa locale. Così, dal 25 ottobre, anche ecclesiasticamente il nome venne normalizzato in Planem Albanensium. Nell'autunno dello stesso anno, il re d'Italia ed Albania, Vittorio Emanuele III di Savoia, visitò la cittadina. Il 31 dicembre 1944, dalla sede municipale in piazza, cui parteciparono circa 2000 persone, incluso il vescovo con i suoi prelati, venne proclamata la Repubblica Popolare Indipendente di Piana degli Albanesi, durata però 50 giorni. Nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, Piana degli Albanesi fu uno dei pochi comuni isolani a preferire la Repubblica alla monarchia. Il primo maggio 1947, giorno d'inizio della quindicina di preghiera all'Odigitria, come da tradizione bizantina nella località comunale di Portella della Ginestra, il bandito Salvatore Giuliano sparò contro i contadini inermi di Piana degli Albanesi e di alcuni paesi limitrofi che celebravano la consueta festa del lavoro. Fu la prima strage di mafia dell'Italia repubblicana, in cui morirono 15 persone e altre 56 vennero ferite. Nel corso del tempo, gli abitanti, grazie alla loro tenacia e alle proprie istituzioni culturali, sociali ed economiche, hanno mantenuto inalterata la propria originaria identità etnico-linguistica e anche quella religiosa, conservando gelosamente le proprie radici culturali e ancora oggi rimane quindi inalterato l'attaccamento alla tanto amata madrepatria, sempre vivo nelle popolazioni italo-albanesi.